Ciao, mi chiamo Alessia, sono del liceo artistico di Forlì e oggi abbiamo affrontato le tematiche per il nostro cortometraggio. Abbiamo avuto una varia ampia scelta di cosa potremmo rappresentare e mi interessa molto il fatto della proprietà di vita, come l'abbiamo voluta soprannominare noi e il fatto di vivere da sola, quindi vediamo cosa verrà a fare.